Bussitalia si aggiudica la vendita del ramo d'azienda, diciamo, del CSTP di Salerno ed investe nel mezzogiorno? Sì, noi ci siamo aggiudicati provvisorialmente a questo momento questa gara, siamo contenti, entriamo nel mezzogiorno, entriamo in Campania, entriamo a Salerno in un'azienda buona, con possibilità di crescita, speriamo di crescere sia nel bacino di Salerno che in Campania in generale. Poi c'è anche un investimento sui mezzi, arriveranno nuovi autobus ed anche per i nuovi addetti. Sì, senz'altro Bussitalia sembra pensato che bisogna fare un servizio per i cittadini, i mezzi, i nuovi autobus sono essenziali per migliorare la qualità del servizio, il conforto dei passeggeri e anche l'immagine, quindi investiremo subito in una cinquantina di mezzi, investiamo anche in risorse umane che sono la parte più importante dell'azienda, quindi ci saranno anche delle assunzioni, sempre subito nel primo biennio. E poi pagare il biglietto? Pagare il biglietto è fondamentale, pagare il biglietto è fondamentale, se uno va in edicola, compra un giornale e lo paga, non si capisce perché uno va su un autobus e non paga il biglietto, è fondamentale, in tutto il mondo lo pagano.